avremmo già perso in partenza quindi quando sento qualcuno dire si, Timonia, hai ragione però voi siete piccoli, voi siete dati ci sono tanti gruppi, si sta diviso certo, i gruppi bisogna venire bisogna cominciare a lavorare insieme tutti insieme, superando divisione mettiamo un paio di cosa accende poi il resto ci si confronta tutti insieme si decide saranno cittadini a decidere su tutti gli altri argomenti su tutte le altre cose ma si però sarebbe la possibilità insieme di buttare via il mio volto di sprecare il volto punti, non da una parte, non da una parte non da una parte, non da una parte, non da una parte non da una parte, non da una parte e il mio peggio è questo insomma, il medicismo ci ha portato fino a qui quelli che sono andati a portare tutti i buchi che avevano ci hanno portato all'interno di questa meta e quindi non è così che possiamo risolvere i problemi serve un'unità di tutte quelle cose salve e ci sono ce ne sono tantissime all'interno del paese ci si mette tutti insieme non devono essere ciliteristi il protagonismo anche perché abbiamo già finito in partenza d'altra parte ci sono cittadini che ci insegnano che all'interno del simbolo ci scrivono il nome perché è passata questa mentalità è il popolo che può fare la differenza che sono i cittadini e se mettiamo insieme questi cittadini all'interno di un unico soggetto politico senza volontà di privazia di logo chi se ne frega quello che conta è il progetto e allora si davvero tutti insieme all'interno di un incontro poter mettere una grande segna solana a livello nazionale che metta insieme tutte queste parti sanno allora fatta avrà una colore tremenda e potremo agire non come un unico corpo stramato se ne aveva il primo colpo ma come un insieme di altri magari ne beccano qualcuno ma il resto va avanti diventeremo perché viene chiamato in unititudine inarrestato non ci potranno fermare questa è la vera rivoluzione che possiamo fare per salvarci va 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 e molto bene ci sentiamo grazie mi sono messi in piedi mi ringrazio molto molto bene ok ci sentiamo presto allora grazie ciao grazie ciao Allora, innanzitutto devo dire che devo finire sentire una signora perché io ho due cosette da dire allora, ti ha fatto una così bella analisi di questa situazione che ha saputo anche di trattenere queste almeno una persona io sono arrivata in dettaglio quindi sono perso un pezzo sicuramente della tua bellissima esposizione e comunque voglio apporto dirti che hai detto delle cose assolutamente belle e interessante esagi e che io condivido direi al cento o al venti per cento allora mentre tu parlavi abbiamo in mente delle domande la prima cosa è ma perché è così difficile mettersi d'accordo con le persone che hanno comunque lo stesso problema cioè perché la gente ha questa voglia di farsi del male perché ogni volta invece di centrare il problema si va sempre dall'altra parte cioè è un problema che siamo degli idioti e abbiamo un DNA che non in qualche modo insomma crea queste difficoltà di esposizione qui fenotipica oppure è perché in fondo il potere il desiderio di mettersi in luce di essere praticamente quello che la dice più giusta no? quello che dice l'ultima viola e quello che non ci fa vedere veramente la strada ci fa andare a finire fuori strada appunto nel burrone quindi si è un problema di individui o di che cosa e poi allora tornando a questa analisi che tu hai fatto sull'economia c'è un problema che secondo me e poi magari l'hai detto scusa mia sono arrivata tardi per tutti che ti telebieto scusa c'è un problema anche di sovrapproduzione cioè questi paesi incidentali sono anche in crisi non solo perché c'è un problema di soldi che non si capisce bene come cazzo girano scusate intanto rispondo a qualcuno ma ma c'è un problema di sovrapproduzione allora io l'altro giorno mi ha detto guarda c'è una svedita favolosa sono andata ma a un certo punto mi sono aggagognata perché mi sono comprata anche i pantaloni le maglie era una svedita veramente favolosa ma non cazzo mi dimentico c'è solo un culo cioè c'è un problema lì comunque allora se no rispetto a quella che una sovrapproduzione adesso non riusciamo più a produrre a vendere macchine quindi non ne produciamo a casa mia siamo in quattro c'è un pre-macchina e una moto cioè non so più e il terreno cioè abbiamo questo problema che il modello di sviluppo occidentale è completamente salvato una è una questione di questo tipo l'altro è un buon addosso che io non ho sentito da te direi che il problema della criminalità organizzata ovvero la signora mafia che la mafia e il ragazzo ha chiamato la loro macchine no? che comunque la fa da parola che comunque controlla il potere politico che comunque è quella che determina i voti che la gente va a a a a a a a a è il potere politico certo è il potere politico secondo me è il potere politico che usa la mafia e non viceversa secondo me la mafia è un'altra o sta nel riso sta nel raffa l'istra no? adesso poi capire un po' io non sto facendo un'analisi sto dicendo solo delle mie sensazioni eccetera e l'altro problema appunto come ti dicevo molto lieto che la signora abbia fatto una così brillante esposizione ma le donne sono sempre in quell'altro angolo lì no? in cui comunque non non dà mai e in cui comunque dopo che sono fatti un cuore tutta la vita per tirare la sua famiglia per andare a lavorare per fare cose per venire per cercare di mantenere insieme un sistema sociale che completamente ha la deriva vengono poi e vabbè ma adesso tu sei troppo vecchia oppure magari ma tu sei il fondo non ecco un po' questi problemi in qualche ci sono sono in accordo con te assolutamente quello che dobbiamo riuscire a capire è che se non facciamo un'azione di mettersi insieme o mettersi insieme ragionati con un obiettivo che è quello di riuscire a cambiare questo stato sociale di degenerazione che non so se sei solo degenerazione morale ovviamente ancora non saltano nella mente perché a questo punto sono tutti fuori delle l'orzze ma sono tutti fuori delle l'orzze come un'altra cosa non c'è solo ma sono quelli dei filmetti che fanno la roce e lo sciata non c'è ma io non lo so ma la mente è il problema è il caso ma veniamo la pubblica gentilmente cioè a me c'è le andate da questi guai e dici ma perché devi stessare così le parti guardando c'è c'è i nemici di soli vantemi e svegliere e vantemi a vedere ma quella volta che ce l'hanno dentro è un tessafote ma spiegami cosa se ne devono fare cioè comunque lasciano tutto qua su questa terra, da che sono portato dietro? oddio, grazie di loro comunque poi era semplicemente per dire appunto queste cose scusate guarda, io ti ringrazio perché mi permetti di parlare di un punto che generalmente nelle presentazioni del libro non tratto mai e invece il 321 rispetto a quello che facevi osservare cioè sia rispetto ai problemi di sovrapproduzione sia rispetto al fatto che a Carta siamo autovisionisti, cioè ci facciamo del male da solo visto che prevale sempre la voglia di star separati, di fare più cioè senti come ci si divide l'una da parte l'una dall'altra e poi è perché mi permetti anche a un certo punto di vista di parlare di me stessa rispetto all'impegno delle donne in politica, rispetto a come lo vivo io e a quello che è un grande problema e a questo sul tempo non è un problema adesso ce l'ho di farmi capire ha detto così vuol dire, tutto vuol dire parto da qui ho quasi 38 anni sono mamma di un bambino di 6 anni certo di rapportarmi nel lavoro a alcune traduzioni o a cercare di sbagliare in qualche modo perché il periodo è malissimo e però comunque c'è la famiglia da portare avanti ci sono le cose da fare a casa e scrivere perché mi piace adesso ho appena fatto un nuovo libro ci metterà un po' di scemane quindi prima di andare e riesce seguire comunque questo impegno civico il professor Trimano da dire piuttosto che politica visto che è il termine politico da alcuni posso valentare ma politica è comunque l'impegno civico che faccio sicuramente per me, per i miei figli per i miei figli e per la mia famiglia ma faccio anche per gli altri per le persone che voglio bene perché vorrei che il paese fosse migliore che l'Italia fosse migliore che il futuro insomma anche delle generazioni future fosse migliore non è semplice non è semplice conciliare tutto non è sempre che incastrare appuntamenti ad esempio se io si porto un bambino a scuola poi si vede lavoro poi bisogno di servire poi c'è l'incontro con le persone poi magari nella zona c'è la costituzione e la droga quindi bisogna fare un'azione per essere i cittadini per cercare di risolvere un problema poi la stessa ritornano c'è tutto da fare dei compiti è difficilissimo e lo si fa solo se dall'altra parte ci sono persone che hanno capito che serve collaborare quindi il problema della domanda non c'è il problema se non trova una controparte che sappia condividere la gestione dei tempi la cura della famiglia la situazione è anche più difficile guardando esclusivamente dal punto di vista politico perché c'è chi ragiona con due categorie che personalmente considero sbagliate entrambi e sono quelle delle no se una donna non capisci sei una donna e quindi ci guarda qua paresa sono due opposti cioè devi fare politica perché sei buono il cuore il quarto donna perché devi essere donna oppure non vuoi fare politica perché sei donna secondo me sono due approcci entrambi sbagliati le donne hanno sicuramente una sensibilità diversa hanno una vera un approccio diverso ai problemi e lavorano in modo molto tardi delle persone individui se hanno idea del progetto progettualità capacità devono avere la possibilità di potersi realizzare nel primo nel primo cinico io da questo punto di vista sono stata fortunata ho lavorato al senato con Rossi questo mi ha preso come assistente alla valentale ma mi ha dato carta bianca vedi tu guardi i problemi vedi che cosa c'è vedi che cosa c'è nessun condizionamento lo dice eh no ma io decido e lo faccio lui mi ha dato carta bianca e questo significa potersi usurare cominciare a crescere cominciare a parlare ma anche potersi esprimere e quindi anche in questo caso credo di essere stata fortunata perché ho trovato chi mi ha fatto esprimere ai propri individui dipendentemente dal fatto che io sia una donna piuttosto che fosse stato un uomo quindi è un problema grosso allo stesso tempo non è un grande problema è un problema di società e qui arriviamo la società è tutt'una delle altre cose tolto il discorso dell'economia sì io sono andata molto veloce sui debitori nel prossimo libro c'è tutta una parte che dice che riguarda anche la criminalità proprio perché voce ricompone il debito perché un terzo del PIL italiano giù di lì dovrebbe stanno i calcoli che hanno fatto essere proprio controllato che ha fatto fa parte di quel libro controllato primaventemente dalla cosiddetta criminalità organizzata quindi c'è questo mentale stasera ho addirato un pochino via su questo è vero mi chiedo scusa e rispetto al resto che abbiamo parlato di società soltanto che siamo molto lesionisti riusciamo sempre a separarci di liberci piuttosto che siamo portati a questo consumo io compro adesso c'è una cosa bellina del nuovo iphone per cui tutti gli italiani mi ricordo tutti gli italiani mi ricordo per comprarsi un iphone nuovo ma così non si potesse dire è questa società che è stata manipolata ingannata truffata condizionata da chi ha gestito l'informazione e da chi ha gestito la politica hanno proprio ci hanno iniettato dei virus per cui nasciamo come consumatori nasciamo come dobbiamo consumare per cui questa è una sola produzione per cui ci sono sempre di più su una cosa di nuovo gli oggetti e le cose devono fatte con un principio di ossolescenza innato per cui dopo un mese questa vena qui deve spaccarsi anche se magari il cuore non ciasco dentro perché così io non vado a portare un'altra oppure il cellulare deve avere una funzione nuova perché così è diventato vecchio il tuo e te ne compro un'altra perché se non l'altro basta bene mi rendono troppo troppo una funzione che non vado a utilizzare sui diritti banali non so proprio giusto per il discorso del codice hanno apprezzato come ad essere costruttori il codice ha portato ad essere anche individualisti hanno apprezzato condizionato questa società per cui tendiamo sempre a ragionare i termini individuali io non faccio qualcosa per la mia comunità piccolo o grande nel senso piccolo o stretto grande o largato che vogliate lo faccio per me stesso al massimo lo posso spingermi lo faccio per i miei figli lo faccio per le mie famiglie oltre già no oltre già ho trasformato non è un giudizio che non so insomma è solo franciante rispetto a chi ci ha governato e anche io ho trovato in media ci hanno trasformato in bestie per cui va il principio morso l'Italia io devo sopravvivere se per essere il fenomeno della corruzione il fenomeno dell'opportunismo politico del clientelarismo io devo trovare molto disfandata non importa se eticamente oppure anche decisamente magari non è proprio il caso di farlo però io devo sopravvivere guardo me stesso guardo una richiesta non guardo più all'interesse della comunità cioè l'imposto dei parametri l'imposto dei paletti per cui devo guardare me stesso essere attenzione della televisione quanto male ha fatto questa televisione Mark Twain oltre a un secolo fa parlava dei giornali bisogna quando non c'era parlare della carta stampata e diceva non si può parlare di opinione pubblica non esiste è quella cosa che viene costruita attraverso i giornali la massa pensa quanto il giornale vuole che la massa debba pensare e oggi vale per la televisione pensiamo ragioniamo non ragioniamo nemmeno più perché c'entra direttamente attraverso la potenza delle immagini non dobbiamo nemmeno fare una sorta di pensarci o di riflettere o di rifletterci su abbiamo già prodotto confezionato ma ripetiamo semplicemente quello che abbiamo visto quello che abbiamo sentito e qui l'individualismo l'essere sotto i riflettori l'essere sotto i protagonisti essere liberi in qualche modo perché se no c'è il giudizio della società se no sei un fallito è un giudizio pesantissimo perché è passato attraverso i media stesso discorso del consumo sei un danno sei nessuno i bambini vengono presi in giro alla scuola per avere un vestito firmato per una mamma è quello il meccanismo cioè da consumatori devono saper consumarli più quindi hanno proprio stravolto anche qui a proposito delle regine che ci stanno ci stanno dietro effettivamente in maniera mostruosa con l'arrivo della televisione ancora di più hanno veramente deciso come modellarci come strutturarci a loro piacimento per poterci gestire ancora maggiormente si hanno delle bestie con la mia scannarci e allo stesso tempo si hanno manovratissimi attraverso il sistema dello shock o della paura appena abbiamo una cosa non capiamo più niente tagliamo tutte le difese passa tutto perché ci può essere il peggio di Dio cosa succede? con la paura ci cade un basso qualunque tipo di cosa diventiamo difese conquistate li cominciamo conquistato attraverso gli eserciti che l'Europa ha schierato per noi anche quando sono eserciti falsi artificiali e illeciti come nel caso del debito e di tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato ecco perché sapere può aiutare sapere forse il primo scalino e poi chiaramente ci sono tutta una serie di passi che dovremmo intraprendere insieme se vi permettete come popolo come nazione in raccordo con altre nazioni con la Grecia con l'Orale con lo Stato con il Portogallo con altri paesi ma anche con gli altri cittadini degli altri paesi europei ma mettendolo in centro una volta tanto la nostra nazione il nostro essere italiano la nostra realtà è quello che deve essere fatto per il nostro paese non più quello che va fatto per un partito o per una coalizione piuttosto che l'altra non più assolutamente quello che va fatto perché ce lo chiede l'Europa una guzzina non ha mai diritto di pretendere la sua propria vittima la vittima ha diritto invece di pretendere una vita dignitosa grazie grazie